Spero che tu abbia trovato quello che cercavi. La priorità è massima. Ho mandato un elicottero a prenderti, ma dovrai liberare il tetto prima che possa atterrare. Non giocare con il fuoco. Torna tutto ad un pezzo con le prove. Torna tutto ad un pezzo. 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 Grazie a tutti. Avanti così, agente. Ci serve quel tetto per portare al sicuro le prove. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Solitamente questo elicottero serve solo per i recuperi nella zona nera con l'estrazione di materiali altamente contaminati. Per questa missione faremo un'eccezione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.